madre mia ragazzi mi sentite bene io spero che voi mi sentate bene oggi abbiamo vinto con il Ghent sto anche con le cuffie ragazzi che gioia che bellezza così non si va avanti ragazzi così non si va avanti purtroppo serve un'altra volta una scossa serve che adesso l'allenatore Petraghi abbiano un minimo di sostegno che si che anche il resto dei dirigenti che scendono in campo perché questi calciatori hanno completamente smarrito la concentrazione oggi sufficienza totale in qualsiasi tipo di cosa che sarà fatta in campo non abbiamo perso semplicemente perché di là c'erano dei calciatori scarsi gente scarsa gente aiutami a dire scarsa e praticamente se ci fosse stata una squadra normale come erano per esempio il Bologna o il Torino in Sassuolo avremmo perso anche oggi perché i calciatori purtroppo non riescono ad essere concentrati è un problema secondo me esclusivamente di testa esclusivamente di concentrazione l'abbiamo visto nell'episodio al 39esimo quando gli danno la palla dietro a Smalling Cristante e Veredoux camminano come come per dire vabbè ma io gli ho dato la palla a Smalling che mi frega poi Smalling gliela ridà loro chiaramente non se lo aspettano perché perché non stanno concentrati cioè sono piccole cose chi ha fatto sport lo sa cioè quando tu stai concentrato al 100% un conto quando stai concentrato così e dici boh scendo un campo ma non mi va ha visto color boh cambia il gioco al primo tempo cioè tutto solo ha fatto un cambio di gioco ha preso uno al centro del campo così diri tanto perché ti va di tirare ti ha messo lì color boh poi non ho capito bene perché abbia giocato contro tutta la partita che è successo non ho capito però color boh e per ottiche si scontrano cioè dopo le c'è le partite dopo vacanze natale vanno lì da una palla scivolano se da una botta cascano s'abbracciano cioè hanno fatto delle cose ragazzi da scandalosi Cristante io vi ripeto ancora questo questo discorso Cristante se andiamo a prendere i numeri di Cristante è un calciatore che corre tanto è un calciatore che c'ha pure una buona percentuale di passaggi non può giocare lì davanti alla ripesa ragazzi cioè purtroppo questo è un discorso che io ecco se c'è un discorso che Fonseca non deve andare a cambiare questo fatto qui e se non c'hai i calciatori non vuoi dare fiducia a Mancini non vuoi mettere Vigiar cioè devi cambiare modulo io lo capisco il 4141 per quale motivo lui ha provato a farlo di inventi qualcos'altro metti il 4 e 3 cioè devi inventarti qualcosa poi per carità in fase di uscita di palla anche oggi era un mezzo 4 e 3 a volte perché però ti si abbassava tanto però non va bene dai Cristante lino ragazzi non ne prende una ragazzi non ne prende una non ne prende una ma avrei visto Mancini con l'Atalanta quante volte è entrato dentro l'area di rigore a seguire i tagli degli attaccanti o trequartisti cioè oggi ma vuoi vedere mai Cristante fa mescolso del genere cioè ragazzi tanto vale che giochiamo in 10 cioè tanto vale che giochiamo in 10 io Cristante mi sono reso conto della sua presenza quando ha definito un fuorigioco su quel cross di Golarov e ha preso il palo in fuorigioco perché altrimenti non avrei mai notato cioè mi ha mai notato proprio aria compressa che se sa dove sta è un ologramma è un ologramma Cristante e per il resto per il resto perotti mi sembra avviato sul viale del tramonto sinceramente anche qui non capisco per quale motivo ci ossidiamo a mettere perotti e non dare fiducia a Clevert che comunque farà gli errori quello che volete ma almeno c'ha 20 anni santi Dio cioè vorrà dire anche qualcosa che possiamo magari gestire un calciatore per il futuro non capisco che cosa gli può dare di più perotti rispetto a Clevert sinceramente non sarò io ma non mi sembra che abbia tutta questa personalità questo dribbling questo sprint questa poi quest'ottima intesa con Golarov cioè boh non lo so ragazzi perotti non lo capisco non capisco per quale motivo ancora non si sia provato Cristante trequartista al posto dei Pellegrini sinceramente perché almeno Cristante c'ha la scusante che non è il ruolo suo chiaramente evidentemente per passo dinamicità sprint nel breve perché devi comunque essere un po' reattivo Cristante non lo è all'Atalanta ha fatto quelle palanghe di goal inserendosi come in mezz'alla offensiva benissimo mettiamolo trequartista e vediamo un attimino se può dare una mano a quel Cristiano Di Giego all'interno dell'area di rigore anche con qualche sponda con qualche deriffa deraffa comunque a riempire l'area di rigore perché Pellegrini oggi pure nectoplasma ecco Pellegrini e Cristante non esistono poi dici veri tu gioca male ragazzi cioè ma ci vorrei vedere a voi veri tu lì a giocare male con questi due cioè ci rendiamo conto l'unica nota positiva è Carles Perez l'unica nota positiva è Carles Perez che mi sembra un giocatore che è concentrato è sul pezzo avete visto come lottano con le palle quando sta a lottare su un pallone si concentra guarda una volta guarda due volte per passare la palla bene noi Pellegrini passa la palla così poi c'è stato atteggiamento alla Denzel Washington quando gli tolgono il pallone che dice come vabbè ma io ho vinto 7-8 scudetti 400 slig ma guarda questo che mi ha tolto la palla ma come si permette capito cioè ha fatto asciugata su de me cioè su de me su Lorenzo Pellegrini ma che è matto questo qui diciamo questo qui proprio mancanze di rispetto Dzeko si impegna tantissimo ha fatto secondo me un'ottima partita di sacrificio ha recuperato pure una bella palla al secondo tempo mi è piaciuto per il resto note positive ma diciamo Santon che vi dimostra ancora una volta quando un calciatore entra concentrato per quanto possa essere scherzo e limitato contro questa gentaglia che trovi dall'altro lato riesci comunque a fare buone partite ve lo dico ve l'ho detto pure Bruno Perez ultimamente è meglio di Kolarov perché Kolarov non gli va di giocare quando non ti va di giocare fai prestazioni indecenti quindi o qui qualcuno fa qualcosa lì con questi calciatori poi smettessero di dire che è un problema tattico perché i problemi tattici sono ben altri cioè i problemi tattici non ti permettono di cioè non ti fanno perdere con il Bologna con il Sassuolo con il Torino ragazzi i problemi tattici i problemi tattici li fanno perdere quando giochi partite con squadre in cui si decide proprio al dettaglio in cui la tattica va a giocare cioè va a farti proprio prendere l'ultimo punto di vantaggio per vincere la partita cioè in partita equilibrata cioè il Lazio-Inter si può parlare anche di questioni tattiche no? col Torino, col Sassuolo o col coso o col chi chiacchiamo perso col Bologna capito? cioè io mi devo sentire da calciatori questioni tattiche e i tifosi perché si sono lamentati delle questioni tattiche cioè se fossero lamentati con Fonsaga delle questioni tattiche A sarebbero dei deficienti B qualcuno gli avrebbe dovuto menare perché una pizza sul collo pizza vai a lavorare per favore vai ad allenarti come si deve no? che questioni tattiche questioni tattiche con quello che tira in tribuna questioni tattiche con Cristante che dà le palle e poi dopo pensa a quello che devi fare il giorno dopo questioni tattiche e questioni tattiche mi devo sentire dire questioni tattiche cioè le questioni tattiche sono l'ultimo dei problemi di questioni tattiche le questioni tattiche cioè perché poi pensate che Fonseca gli dica a Pellegrini non andrà a supportare Dzeko io voglio capire questo che vi dice la testa vostra cioè secondo voi Fonseca gli dice a Pellegrini sai che c'è? rimani fuori dall'area fai finta di esserci e di non esserci magari non è che gli dice stai vicino a Dzeko cerca un attimino di duettare con lui cerca di andare al tiro di inserirti di vedere la possibilità di inserirti all'interno dell'area di rigolo no gli dice guarda fai finta che non ci sei gli dice fai finta che non ci sei a Colora gli dice guarda fammi il cambio di gioco però gli adini in faccia a centrompista avversario no 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 non è male non è male a tutta la squadra quando c'ha la palla Paolo Lopez gli dice guardate ragazzi fermatevi perché così Paolo Lopez lo mandiamo in crisi e lo testiamo bene vabbè ragazzi ciao a tutti quanti